La stagione PIME 22-23 ha un titolo preciso, riprendiamo il filo, perché dopo due anni di semichiusura forzata non vediamo l'ora di tornare ad indagare con il linguaggio del teatro le cose umane e quelle divine. Apriamo con Paolo Cevoli domenica 23 ottobre con la sua sagra famiglia sull'arte dell'educazione, sul rapporto genitori e figli, per poi ascoltare con Antonio Roma le speranze dei migranti, la buona novella di De Andrè, la vita di Paolo Borsellino a 30 anni dalle stragi e per la giornata della memoria una prima assoluta sulla testimonianza di Nedo Fiano. A seguire il Giobbe di Joseph Roth, la Vergine Madre di Lucilla Giagnoni e non ci siamo dimenticati neanche della potenza della musica. In cartellone infatti trovate due riduzioni di opere liriche, la Bohème e la Traviata e il grande concerto gospel di Natale che ormai è una tradizione con gli amici di Cluster. Io davvero spero di cuore che vogliate fare questo percorso culturale insieme a noi, insieme al Teatro del Pime.